pronti ad aprire la nostra biblioteca il tema di questa sera stavolta lo so è molto affascinante perché è una storia di cui se ne parla da tanti anni che poi lega anche alcuni personaggi anche di cui barbara ha già parlato quantomeno che sono entrate in contatto con questo tipo di realtà tra l'altro la casa editrice abbiamo avuto qualche settimana fa totem con giorgio cerquetti il fondatore di questa storica casa editrice fondatore che ha credo una novantina d'anni ma che ha una lucidità si ricorda tutti i grandi autori che è riuscito a pubblicare è stata una bellissima segata carissima barbara te grazie fabio no no io pendevo dalle tue labbra aspettavo la fine della frase ma va bene così sì il libro di questa sera e premetto sempre che la biblioteca mia è molto fornita e questi sono libri miei non è che devo andare a comprare o andare a cercare chissà dove è un libro che comunque è stato molto scalpore ovviamente con le sue rivelazioni ma che ha fatto riflettere tanta gente e molti hanno cercato di smontare un pochettino le teorie di questo libro non vi ho detto ancora di che cosa si tratta quindi magari siete molto curiosi è un libro del 2002 che era uscito in francia con un titolo le nuovo mistero di vaticano sinti è scritto da un francese ovviamente visto che nasce in lingua francese è scritto da francois brun sintito la cronovisore il nuovo mistero del vaticano la macchina del tempo edito da mediterranea proprio nel 2002 che cosa fa francois brun intanto chi era francois brun francois brun era un è un scrittore francese che è nato a vernon ha studiato alla sorbona ha approfondito la sua preparazione presso l'istituto cattolico di parigi poi all'università di tubinga ha studiato lingue antiche quindi latino greco asservo abilonese ebraico egiziano e quant'altro all'università di parigi era docente di teologia e sacra scrittura ha tenuto conferenze in molti paesi d'europa la vicenda di questo libro è appassionante e appassionante ma lascia dei grandi punti interrogativi però ti può anche lasciar pensare che un fondo di verità esista perché questo perché 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 una personale inchiesta per trovare una misteriosa macchina del tempo di un certo padre ernetti sarà vero non sarà vero per il momento non lo sappiamo secondo me io non sto facendo nessun spoiler mi piacerebbe fare spoiler per questo libro però diceva il buon padre francois brun diceva cerco la prova dell'esistenza di gesù anche questo non è semplice allora padre brun era convinto che questo cronovisore esistesse mentre c'è un nipote di padre ernetti cioè il creatore di questo cronovisore che ipotizzava che forse sarebbe stato portato in svizzera invece brun dice no il cronovisore stava in vaticano e ci sono dei progetti per ricostruire perché è stato smontato così almeno nessuno lo può usare pare che ci sia in vaticano tutto smontato e esistono dei progetti che erano stati depositati da due notai uno in svizzera e uno in giappone però perché c'è un però sembra che alcune immagini del cronovisore quando esisteva quando era tutto montato e che ci hanno fatto le prove e poi vi dico chi sembra che le immagini riprodotte sono state filmate allora sono trascorsi molto più di 40 anni dall'annuncio di questo cronovisore e più di 50 anni dalla sua presunta invenzione però di questo cronovisore scusate signori non c'è traccia allora pare che e qui vi svelo chi è che ci ha lavorato per anni ci ha lavorato una dozzina di scienziati ricercatori premi Nobel come Enrico Fermi per esempio allora che cosa sarebbe questo cronovisore? sarebbe uno strumento simile ad un televisore capace di produrre visioni straordinarie ed è stato ovviamente una sconvolgente scoperta che però 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 è stata messa a tacere dal Vaticano e questo apparecchio ve l'ho detto venne smontato allora c'è qualcuno giustamente che ha fatto due due che fa quattro dicendo questo questo è sulla dal libro cronovisore ve lo dico subito allora sappiamo che la luce viaggia velocissima e la luce del sole impiega circa otto minuti per arrivare a noi cioè vuol dire che quando noi guardiamo il sole lo vediamo com'era otto minuti fa ci sono delle stelle che sono distanti da noi qualche miliardo di anni luce e quindi quando riusciamo a vederle è magari soltanto qualcosa che non esiste più da 500 milioni di anni eppure li vediamo allora come si può riscrivere la storia in maniera corretta anche se da questo cronovisore sono state viste delle immagini come Giulio Cesare è morto come Gesù Cristo è risuscitato come Garibaldi ha riunito l'Italia allora è un po' come fa la moviola alla Domenica Sportiva però questa è una grande moviola storica e tutti questi fatti che sono stati raccontati poi dai libri di storia sono vissuti in prima persona come spettatori attraverso questo cronovisore è ovvio che qualcuno racconta che il nonno e questa è una fonte certa il nonno ha raccontato appunto al nipote che nel periodo in cui si parlava del cronovisore era uscito un film sul cronovisore che questo nonno aveva visto al cinema però dopo poco tempo non se ne seppe più nulla censura della chiesa si dà il caso che il film raccontava la creazione del cronovisore quando il nonno ha raccontato la scena di quando guardano gli eventi del passato coincide perfettamente il nonno non è così vecchio e ha un cervello perfettamente funzionante non è che si inventa tutto questa persona non è riuscita a comunque qualiare con François Brun quindi non si sa cioè esiste esiste questo film ma se l'ha visto il nonno di questo signore è ovvio che esiste è un vero e proprio caso un caso che è stato smontato guardate un po' da uno scrittore che si chiama Peter Kassa ed è un autore di un libro sull'argomento e lui dice che non sono esistiti testimoni attendibili circa l'esistenza del cronovisore che avessero mai visto l'apparecchio insiste poi dicendo che i soli tre nomi trapelati che poi sono Fermi, Gemelli e Ernetti si riferivano a persone che all'epoca delle dichiarazioni appunto di Ernetti nel 72 erano già morte da tempo quindi non potevano confermare né negare questa vicenda sono stati addirittura dodici licenziati che avrebbero partecipato alla costruzione di questo cronovisore e appunto aver fatto questa scoperta che è stata comunque attribuita solo al monaco beneditino padre pellegrino Ernetti è intrigante è veramente intrigante c'è un professore il professor Calgaris che aveva scoperto nelle sue ricerche che sollecitando alcuni precisi punti del corpo umano si potevano rivivere non solo eventi del passato personale ma anche eventi storici non direttamente riconducibili alle esperienze personali questa cosa è veramente fantasmagorica cioè ha più della fantascienza che della verità sembra quasi una leggenda e secondo la leggenda il Vaticano custodirebbe questa straordinaria invenzione realizzata da padre Ernetti questo dispositivo che sarebbe in grado di captare gli eventi del passato rendendoli visibili su quel monitor così come effettivamente si sono realmente svolti svelando anche dei segreti rischiosi che potrebbero diventare pericolosi per l'intera umanità la scoperta sembra parta da un principio di alta fisica ognuno di noi man mano che passano i secondi nelle ore, nei giorni, nei mesi, negli anni la vita presente lascia dietro di sé come una doppia scia visiva e sonora poiché ogni uomo altro non è che energia visiva e sonora quindi potrebbe effettivamente esistere questo cronovisore che ha registrato alcuni momenti o forse anche tutta la storia più che intrigante veramente non ci fa più dormire alla notte esiste questo libro ecco questo è una certezza il libro di François Brun cronovisore il nuovo mistero del Vaticano la macchina del tempo del 2002 dal quale io adesso vi leggo una paginetta tanto per farvi capire qualche tempo fa ho ricevuto una telefonata di una giornalista spagnola che si trovava a Bologna la quale aveva scoperto in uno dei miei libri le notizie da me riportate sul cronovisore di padre Ernetti vi aveva visto un argomento fantastico ed ancora poco esplorato e mi chiedeva anch'essa di comunicargli eventualmente altri documenti che avrebbero potuto aiutarla a spingere le sue ricerche più avanti in questo scambio di informazioni attirò la mia attenzione su un altro studioso italiano autore di un attacco assai vehemente contro padre Ernetti avevo già incontrato il suo nome in un altro libro si trattava ancora una volta di un ecclesiastico di cui ho già avuto occasione di parlare Don Luigi Borello non fu difficile entrare in contatto con questo sacerdote il quale mi inviò subito una copia del primo libro che aveva pubblicato sulle sue ricerche nell'attesa di terminare il secondo che poi non ha avuto il tempo di completare è lui nel 1967 ad aver cognato il termine cronovisore padre Ernetti non avrebbe fatto altro che riprenderlo come si è visto non era questo l'unico rimprovero che Don Luigi faceva a padre Ernetti fu necessaria una lettera assai ferma del Benedettino di Venezia perché Don Luigi si mostrasse un po' meno aggressivo Don Luigi è membro dell'Accademia Tiberina di Roma dirige in un'oasi verde una colonia estiva per un centinaio di bambini e dedica da più di 40 anni il restante tempo libero alle sue ricerche ha anche pubblicato come ho già detto un piccolo libro intitolato Come le pietre raccontano il principio di questo apparecchio è totalmente differente da quello di padre Ernetti i risultati desiderati del resto sono almeno in un primo tempo meno ambiziosi in sostanza si tratta di una sorta di psicometro come è universalmente riconosciuto il termine psicometria non è adatto ma è attualmente troppo radicato perché lo si cambi ecco brevemente in cosa consiste Tutti gli accadimenti che si svolgono in un determinato luogo depositerebbero sugli oggetti che vi si trovano una specie di sottile patina come una pellicola invisibile A contatto con questi oggetti lo psicometro rileva una parte degli eventi accaduti in presenza dell'oggetto suoni immagini con o senza movimento odore temperature eccetera Qualunque sia l'ipotesi proposta il fenomeno esiste Eccone un esempio particolarmente forte vissuto da Daniel Brinkley un americano espulso dal suo corpo fisico da un fulmine che lo colpì mentre stava telefonando Ustionato paralizzato gli fu necessaria una lunga lotta per ritrovare una vita normale Quando l'ho incontrato in occasione di un congresso a San Paolo del Brasile e successivamente a Porto Rico era pieno di vita e di allegria ma sotto la camicia restava coperto di fasciature Come piuttosto spesso accade in una di queste esperienze ai confini con la morte in lui si erano sviluppati dei doni paranormali Queste ed altro scoprirete all'interno del libro di François Brun Cronovisore Il nuovo mistero del Vaticano La macchina del tempo una proposta semplice proposta di Barbara Marshall all'interno di Border Knights del Vaticano